Non edizione degli Stati Generali della Lessigna, quest'anno si parla di sostenibilità, un tema che è molto caro al nostro territorio e anche alla BCC Verona e Vicenza. Assolutamente, come banca BCC Verona e Vicenza veramente è un piacere poter partecipare a questa serata, soprattutto con un titolo così importante come la sostenibilità. Sono temi che sono nel DNA del nostro istituto, nei valori presenti dalla nostra Costituzione, quindi essere presenti questa sera a questo evento su un tema così per noi strategico importante è veramente un piacere. Quali sono le azioni concrete, alcune di queste, che la banca mette in essa? In particolare se parliamo di sostegno al territorio, quindi a livello di finanziamenti, in questo momento qui noi abbiamo una partnership, una collaborazione molto forte con Veneto Sviluppo, che è il bacio finanziario della Regione Veneta, che sta studiato di finanziamenti ad hoc, pensiamo solo in clienti fotovoltaici per le attività produttive. Ecco, noi siamo in grado di gestire questo tipo di finanziamenti, finanziamenti che hanno componenti importanti a fondo perduto, c'è una geovolazione di tasso anche con tasso zero per una parte del finanziamento, quindi essere come banca, essere un interlocutore in grado di gestire questo tipo di interventi sicuramente può rappresentare un aiuto alle nostre aziende, al nostro territorio anche della Licinia. Grazie